8 novembre 1960 Nelle elezioni generali per la presidenza degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy batte l'avversario repubblicano Richard Nixon JFK diventa all'età di 43 anni il primo presidente cattolico e il più giovane presidente eletto Per molti ad aver influito sulla vittoria sono stati i confronti televisivi registrati per la prima volta fra i due candidati trasmessi in settembre e ottobre